Ecco allora, da dove veniva allora il mio malessere, tra l'altro il malessere che si ripete quindi anche oggi, e quindi le mie domande, è dal fatto che mi accorgevo per la prima volta che quel termine non veniva mai definito, cioè che chi lo usava non avrebbe potuto probabilmente definirlo o comunque non lo definiva, e che io stesso, io stesso non avrei saputo definirlo. Io in passato mi ero spesso servito come regola implicita della mia pratica di pensiero, di questa formula, quando il movimento c'è fare come se non ci fosse, e quando il movimento non c'è fare come se ci fosse. Però adesso mi rendevo conto che io non sapevo che cosa significava la parola movimento, al di là della genericità che tutti, è una di quelle parole che tutti credono di capire, però nessuno definisce. Per esempio, innanzitutto, da dove proveniva questa parola? Come mai si è chiamato movimento, a un certo punto, un'istanza politica decisiva? Ecco, le considerazioni che vi farò oggi, appunto, nascono dalla consapevolezza che non è possibile, che non era possibile lasciare non definito questo concetto. Dobbiamo pensare il movimento perché questo concetto è il nostro impensato, in un qualche modo, che rischia proprio per questo di compromettere eventualmente le nostre scelte, le nostre strategie. Non è solo uno scrupolo filologico, o perché la terminologia è il momento poetico, quindi produttivo, del pensiero, o perché, non so, il mio lavoro è quello di definire concetti, quindi per abitudine tendo a farlo, ma credo proprio perché l'uso acritico di concetti può essere responsabile di molti fallimenti, di molti sconfitte. Ecco, naturalmente io sono appena all'inizio, mi sono proposto di iniziare una ricerca su, così, che cerchi di definire il termine movimento, sono appena all'inizio, oggi quindi vi farò semplicemente delle considerazioni di base, cercherò di piantare alcuni picchetti che potrebbero servire per orientare la ricerca futura. Intanto alcuni dati storici banali, questo penso che tutti forse lo sanno, è che il concetto di movimento, che in filosofia, nelle scienze ha una lunghissima storia, in politica invece acquista un significato tecnico rilevante solo nel XIX secolo. Una delle prime apparizioni è nella rivoluzione di luglio in Francia del 1830, qui i fautori del cambiamento si definivano Parti du mouvement e gli avversari Parti de l'ordre. Vado sempre molto rapidamente, è solo però forse con Lorenz Faustine, un autore che come sapete ha influenzato tanto Marx che Carl Schmitt, che questo concetto si precisa e comincia a definire un ambito strategico di applicazione. Nella sua storia del movimento sociale in Francia, pubblicata nel 1850, Lorenz Faustine gioca la nozione di movimento in contrapposizione dialettica alla nozione di Stato. Lo Stato è l'elemento statico, legale, mentre il movimento è l'espressione delle forze dinamiche della società. Quindi il movimento è sempre movimento sociale, in antagonismo con lo Stato ed esprime il primato dinamico della società sulle istituzioni giuridiche e statuali. Ecco, il fatto è che anche Lorenz Faustine non definisce che cosa si debba intendere per movimento, cioè ne dà, come vedete, una dinamica, disegna la sua funzione, ma non ne dà né una definizione né una topica. Qualche indicazione interessante per la storia dei movimenti si può trovare nel libro dell'Arendt sul totalitarismo, in cui anche però anche questa volta il termine non è definito, cioè il termine di movimento tutti sanno che vuol dire e nessuno lo deve definire. Ciò che l'Arendt mostra è che intorno alla Prima Guerra Mondiale, subito prima e subito dopo, i movimenti acquistano in Europa uno sviluppo eccezionale, in contrapposizione questa volta ai partiti. Intorno alla Prima Guerra Mondiale i movimenti estendono la loro influenza, si diffondono, in contrapposizione strategica ai partiti che entrano in crisi. In questo periodo, come vi dicevo, si assiste a una vera esplosione del concetto e del fenomeno del movimento. Questo è importante ricordarlo, terminologia usata massicciamente sia a destra che a sinistra. Sia a sinistra anzi che a destra. Fascismo e nazismo si definiscono sempre come movimenti, e solo secondariamente come partiti. Comunque è un termine invece che eccede appunto in questo momento l'ambito politico, lo si incontra dovunque, non so chi ha frequentato l'opera di Benjamin, sa che l'importanza che le Jugendbewegung nei movimenti giovanili hanno avuto nella sua formazione, ma per fare un esempio completamente al di fuori del politico, quando Freud nel 1914 vuole scrivere un testo per definire che cos'è la cosa in cui sta dentro lui, la psicanalisi non la definisce né scuola, né istituzione, né disciplina, dice che è un movimento psicanalitico. Però anche qui una definizione non c'è. Ecco, mi pare che si veda chiaramente come in determinati momenti storici vi sono delle parole, dei concetti che si impongono come parola d'ordine irresistibile, che vengono adottate quindi dalle posizioni più antagonistiche, senza però mai esigere una definizione. Il punto però più imbarazzante di questa mia ricerca, il punto anche in cui maggiormente esplode questa cecità al concetto, è quando mi sono reso conto che l'unico che aveva tentato di definire, in ambito politico e giuridico anche, il termine, era un giurista nazista, cioè Carl Schmitt, che nel saggio del 1933, che porta il titolo appunto Staat, Bewegung, Volk, Stato, Movimento, Popolo, il sottotitolo è di Il drag leaderung des politici high night, cioè la tripartizione, la triplice articolazione dell'unità politica, pone da, tenta di definire chiaramente la funzione politico-costituzionale della nozione di movimento. Il punto è imbarazzante perché appunto Schmitt cerca di definire in questo saggio la struttura costituzionale del Reich nazista. Si tratta di definire quella che lui chiama di Heutige Verfassung Le Lage, cioè la situazione costituzionale dello Stato nazionalsocialista. Ecco, devo quindi riassumervi molto brevemente le tesi centrali di Schmitt, perché mi sembra che questa promiscuità terminologica con un pensatore del nazismo esige chiarezza e lucidità. Senza appunto un'analisi di questa promiscuità con un'analisi come quella schmittiana non c'è possibilità di chiarire e di uscire da questa promiscuità. Ecco, secondo Schmitt, l'unità politica del Reich nazista si fonda su tre elementi o membri che sono appunto Stato, Movimento, Popolo. L'articolazione costituzionale del Reich nazista quindi risulta dall'articolazione e dalla distinzione di questi tre elementi. Il primo elemento è lo Stato, dice Schmitt, che è, notate e fate bene attenzione alla definizione che Schmitt dà, lo Stato è la parte politica statica, cioè l'elemento statico, l'apparato degli uffici. Il popolo, questa è una definizione su cui vi prego di fare molta attenzione, il popolo è invece l'elemento impolitico, non politico, un politice, che cresce all'ombra e sotto la protezione del movimento. Elemento impolitico che cresce all'ombra e sotto la protezione del movimento. Il movimento è invece il vero elemento politico, l'elemento politico dinamico, che trova la sua forma specifica, poi nel rapporto con il Partito Nazional Socialista e con la direzione, la Führung, però è importante che per Schmitt il Führer stesso non è che, per così dire, una personificazione del movimento. Ecco, volevo fare qualche riflessione sulle implicazioni di questa tripartizione. La tripartizione che, tra l'altro, Schmitt suggerisce, secondo lui, essere in qualche modo presente anche nell'organizzazione costituzionale dello Stato sovietico. Una prima considerazione estremamente, mi pare, ricca di conseguenze è la seguente, cioè che il primato della nozione di movimento è funzione del diventare impolitico del popolo. Riflettete quella definizione, il popolo è l'aspetto impolitico che cresce all'ombra e sotto la protezione del movimento. Quindi una prima conseguenza, mi sembra di più importante, che siamo consapevoli, è che il movimento diventa il concetto politico decisivo quando il concetto democratico di popolo come corpo politico, mi riferisco alla definizione della tradizione democratica del popolo come corpo politico in ogni senso costitutivo, è ormai tramontato. Adesso questo oggi non credo che ci stupisca, ma credo che si possa dire che la democrazia finisce quando nascono i movimenti. In senso sostanziale non esistono movimenti democratici. Ripeto, precisando che democratico qui significa quella tradizione che vede nel popolo l'elemento costitutivo, no? Se poi si possa pensare a una democrazia che non riposi su quel concetto di popolo, questo è un altro problema, naturalmente. Ecco, quindi, punto. Su questo presupposto, no? Che i movimenti segnano la fine del concetto di popolo come corpo politico, ecco, su questo presupposto è condiviso, mi sembra, tanto dalla tradizione rivoluzionaria della sinistra che dal fascismo e dal nazismo. Adesso, appunto, non è un caso, appunto, che anche i pensatori, per esempio, che oggi, come Tony, cercano di pensare il nuovo corpo politico, per esempio, ricorrono ad altre nozioni, non è quella di popolo, è una nozione di moltitudine, per esempio, no? Che in obse è contrapposta chiaramente a popolo, tra l'altro per chi ha una sensibilità lessicale o lessicografica come me, è un fatto significativo che intorno a Gesù non c'è mai laos o demos, che sono i due termini tecnici in greco per il popolo, ma solo un oclos, una massa, una turba, come traduce San Gerolamo, no? Intorno a Gesù non c'è mai popolo, c'è solo turba, moltitudine. Ecco, dunque, allora, il concetto di movimento presuppone l'eclissi del concetto democratico di popolo come soggetto politico costitutivo, come corpo politico. Quindi, mi pare che una prima cosa di cui dobbiamo essere consapevoli quando usiamo il termine movimento è questo, e che però in questo l'uso è condiviso dal nazismo e dal fascismo. nazismo e fascismo nascono dalla coscienza che il corpo politico, il concetto democratico di corpo politico è tramontato. Ecco, continuiamo a svolgere le implicazioni del concetto schmittiano di movimento. Il popolo, abbiamo visto, è un elemento impolitico che il movimento deve sostenere e di cui deve proteggere la crescita. schmitt usa il verbo waxen, la crescita biologica, come delle piante e degli animali. Come schmitt dice subito dopo, questo corrisponde, la parte non politica del popolo, corrisponde alla sfera, appunto, in politica della amministrazione, selbstverwaltung. Schmitt evoca anche lo stato corporativo fascista, e come mi sembra una cosa, per guardarla con gli occhi di oggi, mi pare che non si può non riconoscere in questa determinazione del popolo come elemento non politico, l'implicito riconoscimento, che schmitt non lo sa mai articolare, del suo carattere biopolitico. Il popolo da corpo politico costitutivo si è ormai trasformato in una popolazione, cioè in un'entità demografico-biologica e come tale impolitica, che il movimento deve appunto sorreggere, proteggere e lasciar crescere. Di qui appunto la necessità del movimento nella triade schmittiana, perché appunto quando nel corso del XIX secolo i popoli si trasformano da entità politiche in entità demografico-biologiche, in popolazioni, il movimento assume una necessità imprescindibile. Ecco, questa è un'altra cosa di cui dobbiamo essere coscienti, cioè noi viviamo in un'epoca in cui la trasformazione del popolo in popolazione, cioè in un'entità politica in un'entità demografica, è un fatto compiuto. Il popolo oggi è un'entità biopolitica nel senso di Foucault, naturalmente, nel senso stretto del termine, ed è proprio questa trasformazione biopolitica dell'antico soggetto politico che rende necessario il concetto di movimento. Vorrei anticipare che se vogliamo pensare diversamente il concetto di biopolitica, per esempio come fa Tony, e in questo, anche se in una prospettiva diversa e con più cautela, io gli sono molto vicino, cioè se vogliamo pensare invece diversamente il concetto di biopolitico, cioè se vogliamo pensare, per così dire, l'intrinseca politicità del biopolitico, se l'elemento biopolitico, cioè deve apparirci come già sempre politico, che non ha bisogno quindi di essere politicizzato attraverso il movimento, ecco, però questo significa anche che dobbiamo ripensare da capo il concetto di movimento, non possiamo usare acriticamente il concetto di movimento se per esempio vogliamo ripensare la politicità dell'elemento biopolitico. ecco, appunto, tutto sempre questo lavoro di definizione mi pare necessario, perché, appunto, se si continua poi a leggere il testo del saggio di Schmitt, si vede come affiorino, a partire del concetto di movimento, delle aporie particolarmente minacciose. se l'elemento politico determinante, come nella prospettiva di Schmitt, l'elemento politico autonomo è il movimento e se il popolo, invece, è un elemento in sé impolitico, allora il movimento potrà trovare la propria politicità solo segnando nel corpo biopolitico del popolo delle cesure interne che ne permettono la politicizzazione. Questa cesura in Schmitt è quella che gli chiama la identità di specie, ma grossomodo è il razzismo, artgleichheit. Ecco, qui a questo punto possiamo misurare, appunto, come qui Schmitt raggiunge proprio il massimo, la massima identificazione col razzismo, qui è proprio il punto della sua massima corresponsabilità col nazismo. Questo punto è un fatto, ecco, però nello stesso tempo dobbiamo renderci conto che questa scelta di essere poi costretto a identificare una cesura nell'elemento impolitico del popolo è la conseguenza immediata della sua concezione della funzione del movimento. Se l'elemento politico non è il popolo ma il movimento come entità autonoma, da dove può il movimento trarre la sua politicità? ecco, la politicità del movimento potrà fondarsi solo nella sua capacità di identificare in seno al popolo un nemico in questo caso un elemento razzialmente estraneo nel caso di Schmitt dove c'è un movimento si profila sempre in questo senso una cesura che taglia e divide il popolo il movimento un'escesura in questo caso che identifica un nemico e credo che adesso capiate perché mi pare così urgente ripensare il concetto di movimento e anche chiarire appunto il suo rapporto per esempio con il popolo eventualmente con la moltitudine appunto perché in Schmitt si vede molto bene che l'elemento escluso come impolitico dal movimento torna a presentarsi come ciò che deve essere ogni volta deciso si pone la necessità ogni volta di una decisione politica sull'impolitico su che cosa è politico o impolitico il movimento di Schmitt è l'organo che decide sull'impolitico una decisione politica sull'impolitico che può avere la forma di una scesura etnica o raziale come Schmitt ma può avere anche la forma che oggi ha più spesso di indicare un compito di gestione e di governo di quell'elemento impolitico che sono le popolazioni del corpo biologico dell'umanità o dei popoli che si tratta appunto oggi di governare per il potere ecco a questo punto mi pare che una delle domande che si pone vorrei porre alcune domande innanzitutto dobbiamo continuare a usare il concetto di movimento o dobbiamo abbandonarlo se per esempio il movimento segna una soglia di politicizzazione dell'elemento impolitico può darsi un movimento che abbia una forma diversa per esempio della guerra civile oppure un'altra domanda che invece su cui vorrei terminare in che direzione potremmo invece ripensare il concetto di movimento e la sua relazione all'elemento biopolitico questo su quest'ultima domanda volevo terminare un tentativo di come in che direzione potrebbe essere possibile invece ripensare il concetto di movimento e qui naturalmente non vi darò una risposta appunto mi pare che una ricerca che prenderà molto tempo solo qualche rapidissima indicazione così di orizzonte su dove muoversi dove ricercare come sapete il concetto di movimento è il concetto centrale del pensiero di aristotele all'interno del pensiero di aristotele la nozione di movimento di kinesis svolge una funzione strategica in un ambito molto importante che è quello del rapporto tra la potenza e l'atto aristotele dà una definizione secondo me molto interessante del movimento dice il movimento è l'atto di una potenza in quanto potenza quindi non il passaggio all'atto le sorrisse in atto l'atto di una potenza come potenza in un'altra volta dice anche il movimento è un atto imperfetto a telesse cioè che non ha che non si possiede nella sua fine che non ha un fine e qui suggerirei un piccolo ritocco a questa definizione di aristotele che va in una direzione che ancora una volta tra le tante differenze che ci oppongono invece forse mi sembra che Tony potrebbe condividere cioè il movimento è la costituzione di una potenza in quanto potenza ma se questo è vero però allora non potremmo mai pensare il movimento come qualcosa di esterno e di autonomo rispetto alla moltitudine al popolo non potrà mai essere soggetto di una decisione di un'organizzazione di una direzione concernente il popolo non potrà mai essere un elemento di politicizzazione della moltitudine o del popolo e inoltre un'altra cosa che mi pareva molto interessante nella definizione di aristotele è questa idea di un atto ateles che manca di una fine che è incompiuto infinito in senso proprio che gli manca il telos e questo significa che il movimento si mantiene in un rapporto essenziale con una privazione con un'assenza di telos con una imperfezione il movimento è sempre costitutivamente in rapporto col proprio mancare quindi con la propria assenza di un fine di un ergon di un telos anche di un'opera io sempre una cosa con cui non sono mai d'accordo con Tony è questo accento posto sulla produttività bisogna qui anche rivendicare l'inoperosità l'assenza di opera come momento centrale ecco quindi il movimento è qualcosa che non si possiede mai in un ergon in un'opera in un telos anzi il movimento in questo senso esprime in un certo senso l'impossibilità di un telos o di un ergon di un fine di un'opera per la politica movimento significa proprio l'indefinitezza e l'imperfezione di ogni politica il movimento in questo senso appunto lascia sempre un resto ecco in questa prospettiva il motto che avevo citato all'inizio che era questa regola interna per il mio pensiero quando il movimento c'è fare come se non ci fosse e quando non c'è come se ci fosse potrebbe invece essere riformulato in senso ontologico in questo modo il movimento è ciò che se è come se non fosse manca a se stesso e se non è è come se fosse eccede se stesso quindi una soglia di indeterminazione tra un eccesso e un difetto che segna il limite e il resto di ogni politica e la sua costitutiva imperfezione grazie